Buongiorno a tutti, sono Andrea De Vita, ortopedico specialista in chirurgia di spalla del Concordia Hospital di Roma e vi parlerò oggi della riparazione in single row della cuffia dei rotatori nell'ambito delle iniziative promosse dal comitato spalla della SIAGASCOT. Per riparazione in single row si intende una riparazione della cuffia dei rotatori con una sola fila di ancore. Si è discusso negli ultimi dieci anni se sia valida più una riparazione double row cioè con una doppia fila di ancore o con una singola fila. In realtà nei lavori prodotti si è visto che i risultati clinici sono sovrapponibili per le due tecniche e che probabilmente la riparazione double row aumenti il costo della riparazione stessa e possa per qualche motivo in alcuni casi dare problemi nella riparazione se il termine viene ischemizzato contro l'osso stesso. In realtà dal punto di vista anatomico si è visto che la riparazione double row migliora la copertura del footprint rispetto alla riparazione single row. Per eseguire la riparazione della cuffia dei rotatori possiamo utilizzare la posizione b-chair o la posizione laterale indifferentemente. In questa immagine vedete come la posizionamento di un ago mi permetta di valutare quali sono gli accessi.